Sulla vicenda della chiusura della scuola di Matrignano arriva l'aiuto dell'onorevole Marco Baldassarre che ha richiesto con urgenza un incontro al sindaco Ghinelli e all'assessore Tanti per parlare dei problemi legati alla scuola L'Aquilone. È lo stesso assessore Tanti, ospite della nostra trasmissione Nero su Bianco in onda venerdì alle 21, a raccontare l'esito di questo incontro. Ci siamo presi un mese di tempo, lo dico perché poco fa abbiamo incontrato anche l'onorevole Baldassarre il quale è venuto a trovarci al sindaco e a me, dandoci anche un supporto che abbiamo non solo gradito ma ci ha fatto piacere perché i parlamentari del territorio indipendentemente dalle espressioni politiche servono a questo e quindi è stato un incontro molto positivo. Abbiamo preso un mese di tempo perché dalla regione dobbiamo comprendere se la richiesta di cambiamento da adeguamento a rifacimento ci permette di rimanere dentro al finanziamento pare di sì ma il dirigente delle opere pubbliche andrà in regione la prossima settimana. In contatto con il capo di segreteria del ministero con delega all'edilizia scolastica ha riunito non per noi ma per l'Italia un osservatorio proprio sull'edilizia scolastica la settimana scorsa. L'onorevole Baldassarre si è fatto disponibile a farci capire non i modi, quelli obiettivamente li sappiamo da soli, ma i tempi che non sono secondari e quindi prendiamo un tempo congruo da qui a giugno, tanto da qui a giugno nulla succede, neanche lavora la Tricca perché c'è bambini anche alla Tricca oltre che a Matrignano. Quindi insomma di fronte a un fatto che mettiamo un punto e apriamo una pagina nuova capisco il disagio ma credo che il peggior disagio sia quello di fare finta di nulla.